Lo scopo è quello di rafforzare la collaborazione istituzionale e professionale, per questo la direzione regionale dell'Inps e i presidenti dei consigli, degli ordini e dei consulenti del lavoro si sono incontrati per sottoscrivere un protocollo d'intesa. Le parti si impegnano a favorire, nelle diverse realtà provinciali, le esigenze che maturano e la creazione di collaborazioni per raggiungere elevati standard di qualità dei servizi. Ci consente tra le altre cose anche di istituire tavoli tecnici che permettono sia a noi come istituto sia ovviamente ai consulenti del lavoro di affrontare tematiche, questioni normative che sono complesse nella loro applicazione e quindi il tavolo tecnico è l'occasione per un confronto e ancora di più vedere quali sono le criticità che operative possono emergere e quindi trovare soluzioni condivise. Su un punto sono tutti d'accordo, la necessità di fare rete per raggiungere obiettivi comuni, per semplificare i processi di lavoro e trovare insieme le soluzioni ad esempio attraverso lo scambio dei dati e delle informazioni. Vedremo insieme attraverso anche i momenti di formazione di risolvere o proporre delle soluzioni che rendano più fluido la comunicazione tra aziende, dipendenti e Inps facendo il nostro ruolo di intermediari. L'impegno comune garantisce la tutela della legalità anche contro l'abusivismo professionale nell'interesse delle aziende e dei lavoratori.